Anche nelle Marche, a seguito della comunicazione emanata ieri sera dalla Regione, era stata predisposta la sospensione dell'utilizzo di un secondo lotto del vaccino AstraZeneca. Le dosi del blocco ABV5811 sarebbero state sostituite con ulteriori dosi di vaccino disponibili. La decisione era arrivata in seguito agli eventi che avevano avuto luogo in Piemonte, dove tra le giornate di sabato e domenica l'ente regionale aveva deciso di sospendere, in via del tutto precauzionale, la somministrazione dello stesso lotto ritirato anche nelle Marche dopo il decesso di un insegnante 58enne residente nella provincia di Biella, avvenuto senza alcun nesso causale accertato dopo l'inoculazione della dose. La sospensione del secondo blocco AstraZeneca nelle Marche era arrivata dopo gli episodi che nelle scorse giornate si erano registrati nella sede di vaccinazione pesarese, allestita al centro sociale Monaldi nel quartiere Celletta. A seguito del ritiro del primo lotto AstraZeneca, diversi over 80, vista l'assenza non preannunciata delle dosi Pfizer e l'utilizzo di AstraZeneca per le somministrazioni, avevano deciso di annullare la prenotazione, rifiutando di ricevere l'inoculazione una volta giunti al Monaldi. Episodi che avevano creato indignazione tra i presenti e anche tra gli accompagnatori degli anziani, i quali avevano inoltre rimarcato una mancata comunicazione dell'assenza delle dosi Pfizer o Moderna, nonostante le prenotazioni regolarmente effettuate qualche settimana prima. Le rinunce dei diversi presenti avevano portato l'organizzazione a contattare persone iscritte ad una lista di riserva che avevano quindi ricevuto le dosi AstraZeneca rifiutate dai primi destinatari. Sulla vicenda erano poi intervenuti anche i sindacati degli anziani SP-CGL, FNP-CISL, Wilp Wilpes Rubino, sottolineando le disfunzioni registrate al centro Monaldi nelle ultime settimane, comprese gli episodi di lunga attesa rispetto agli orari di prenotazione fissati per gli over 80. Nel pomeriggio odierno poi, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha reso nota la decisione di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa di pronunciamenti dell'Agenzia Europea per i medicinali, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale. Tale decisione, ha spiegato l'Agenzia, è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri paesi europei. L'AIFA, in coordinamento con EMA e con gli altri paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione. Infine, l'Agenzia del Farmaco renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose.